Il tema di questo pomeriggio è un po' in continuazione con quello di questa mattina e il titolo della meditazione che faccio ora è sull'orgoglio, che non piace tanto. Allora, orgoglio e umiltà, chiamiamolo così. Ho terminato la meditazione di questa mattina dicendo che in paradiso ci sono tutti i peccati tranne uno, l'orgoglio. All'inferno ci sono tutte le virtù tranne una, l'umiltà. In realtà l'orgoglio è proprio il grande pericolo del consacrato. Sì, tutti gli altri ci sono. Peccati di fragilità, avarie, i sette vizi capitali, ci sono tutti. Però il grande nemico da abbattere, abbattuto quello, si abbattono tutti gli altri, è l'orgoglio. Il pericolo del consacrato può essere quello di ritenersi più bravo, è l'errore di Israele. Più bravo degli altri, l'errore di Israele che siccome era stato scelto da Dio per essere la prima delle nazioni, fece questa equazione. Sono stato scelto, quindi sono il più bravo, perché questo avviene nelle nostre consuetudini umane. Viene scelto chi è bravo, come gli scolari della classe. Invece nel Deuteronomio Dio dice chiaramente, io ti ho scelto non perché sei il più bravo, ma proprio perché sei il più piccolo delle nazioni, la più piccola delle nazioni. Dio ti ha scelto perché tu sei il più piccolo, perché appaia che ciò che avviene in te non è opera tua, ma è opera di Dio. Dio sceglie le persone peggiori, cioè noi, scusino ma è così, perché appaia che quello che avviene in noi è opera sua. Nell'umile è Dio che agisce, nell'orgoglioso non c'è nessuno che agisce, l'uomo che agisce o il maligno, ma nell'umile è Dio che agisce. È straordinaria la vita del curato d'Ars, il quale fu fatto prete a 29 anni, perché non riusciva a passare gli esami, non era promosso agli esami, era un testone, uno zuccone, il curato d'Ars. A 29 anni, siccome era ancora in seminario, il rettore si stufò di avere uno di 29 anni, andò dal vescovo e disse, senti eccellenza, qui non possiamo continuare ad avere delle bocciature, o esce o viene ordinato. Siccome gli mancavano degli esami, il vescovo disse, ma come facciamo qua? Dice, almeno sa pregare? Il vescovo disse al rettore, sì sì, su questo non c'è problema, sulla vita di pietà non c'è problema. Lo ordinarono, perché il vescovo disse, almeno sa pregare. E diventò colui che da solo tirò su le sorti della Francia del 1800, che usciva dalla rivoluzione francese. Un testone, uno zuccone. Per fare l'omelia, faceva solo la domenica, cominciava a prepararsi il lunedì, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, e la imparava a memoria, perché aveva paura di dire degli sfondoni, per cui la imparava a voce alta, di notte, lo sentivano che ripeteva l'omelia della domenica. Poi andava solo la domenica, sapete cosa succedeva? Andava sul pulpito, cominciava l'omelia, e dopo cinque, sei frasi, se la dimenticava. E si incespicava, e terminava l'omelia dicendo così, lui è là, così col dito. Però piangeva. La gente si convertiva. Facessi io delle omelie così, e mi disse, ma è così difficile dire lui è là. Com'è che io dico lui è là, e i cuori non si muovono? Ecco, appunto, chiediamocelo questo fatto. Dio agisce veramente negli umili. Allora, adesso cerchiamo di capire qual è il principio dell'umiltà, perché io voglio essere umile. Attenzione, il principio dell'umiltà è in Dio. E questa è la grandissima intuizione di un certo Giovanni, detto Francesco, nato da Sisi, il quale nella preghiera l'elodi di Dio Altissimo, che spero conosciate a memoria, a memoria, tu sei santo, Signore Dio, onnipotente, re del cielo e della terra. La conoscete? Tu sei grande, tu sei forte, tu sei altissimo, tu sei re onnipotente, tu padre santo, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tutti quegli aggettivi. a un certo punto dice, tu sei umiltà, basta. Non dice tu sei umile, cioè dice, Dio è umiltà, ma guardate che questa è una cosa strepitosa, dire Dio è umiltà, cioè vuol dire che il principio dell'umiltà è Dio, è dentro Dio. Andiamo allora a fare un'indagine, a scavare che cos'è questa, perché per noi l'umiltà è riconoscere la nostra piccolezza di fronte a un altro, giusto? Ma Dio non può riconoscere la sua piccolezza di fronte a un altro, non c'è nessuno superiore a Lui. Cosa vuol dire allora che Dio è umile? Cosa vuol dire che Dio è umiltà? Cerchiamo di vedere che cos'è l'umiltà in Dio, perché quando capisco cos'è l'umiltà in Dio, divento umile anch'io. L'umiltà in Dio, secondo me, poi ognuno abbia la sua, ma secondo me l'umiltà in Dio e l'umiltà di Dio significa è per il fatto che Dio vive totalmente nella relazione con l'altro. Cioè il padre è nel figlio, il figlio è nel padre, la Santissima Trinità, anziché complicare il mistero di Dio, lo semplifica. Cioè mi dice che il padre in sé per sé non è. Il padre vive nel figlio, il figlio in sé per sé non è. Il figlio vive nel padre, verrebbe da dire con un paradosso, se cerchi il padre non lo trovi, perché il padre è nel figlio, è un paradosso. Se cerchi il figlio non lo trovi, il figlio è totalmente nell'altro, nel padre. Questo è vivere spossessati da sé, vivere talmente fuori di sé da essere totalmente dentro un altro. Per noi uomini ci avviciniamo a questa esperienza quando pensiamo la madre e col figlio. Quando un bambino sta male, sta male anche la madre. Vero o no? Perché? Perché stai male? Se la mamma e papà devono andare al cinema e hanno fatto già il biglietto, ma il bambino al pomeriggio comincia a vomitare, a star male, la mamma al cinema non ci va. Perché sta male il figlio, mica lei? Che domande. Perché la madre vive nel figlio, quindi siccome sta male il figlio, sta male anche lei. Non ha il mal di stomaco, ma è preoccupata. Se una mamma di un figlio grande, un uomo, vince il premio Nobel della letteratura, della fisica, secondo voi la mamma è contenta o no? Sì? Perché? Non è che ha vinto lei il premio Nobel. Ha vinto il figlio. Cosa vuol dire? La madre vive più nel figlio che in sé. A volte è anche un limite delle madri, perché poi stanno un po' addosso. Questo non... Spero che non si veni registrato, cancellatelo però. E cosa vuol dire questo fatto? Che la madre si realizza più fuori di sé nel figlio che non in sé stessa. Questo esempio è un pallido esempio di quello che avviene in Dio. Cioè vuol dire che appunto il figlio, il verbo, si realizza totalmente nella sua relazione col padre. quando io dico tra marito e moglie, mettiamo, un uomo dice alla sua moglie tu sei la mia gioia. Lo facciamo due fidanzati, perché poi una volta sposati non se lo dicono più. Un fidanzato dice tu sei la mia gioia. Cosa vuol dire? Che io non ho gioia, sono povero di gioia, non ce l'ho. La mia gioia è in te. Bellissimo. Potersi sentire dire una frase del genere. Bellissimo. E io dico mia volta, magari la fidanzata, neanch'io ho gioia. Io non ho gioia in me. Tu sei la mia gioia. Gioia mia, come diceva Serafino di Sarf, Cristo è risorto. Poi in Sicilia, dice sempre, gioia mia. Ogni volta che guardo in Sicilia mi dico gioia mia. Cosa vuol dire gioia mia? È che io sono la tua gioia. È bello sentirsi dire gioia mia. Bisogna dire che sia vero e non sia solo un modo di dire. Io sono la tua gioia. Fantastico. Benissimo. Questo vuol dire vivere totalmente nell'altro. Quando Gesù appare nella sua visibilità e manifesta davanti ai suoi discepoli atti di umiliazione, atti in cui si umilia, in particolare il momento in cui lava i piedi agli apostoli, significa che Gesù manifesta la vera natura di Dio che non è venire qui con armi e cavalli e massacrare il mondo del peccato o il mondo del male attraverso questi strumenti. Infatti Dio degli eserciti viene senza eserciti e quello che manda in tilt Giude Scariota e anche Ponzio Pilato si accorge immediatamente che questo è un re senza eserciti quando vede Gesù tu sei re? Sì. E dove sono i soldati? Pilato dice ma che re? Infatti dice lo voleva liberare. Cioè la vera natura di Dio manifestata in Cristo è in questo dono totale che è la manifestazione del fatto che egli non vive in sé ma nell'altro e quindi per vivere nell'altro si dona ma deve permettere all'altro di donarsi a me per questo si fa piccolo se Dio fosse arrivato nella sua gloria ma chi l'avrebbe amato? Io una persona molto potente io posso rispettarla ma non amarla per questo si fa bambino perché permette a una creatura Maria Santissima di poterlo amare donandosi pienamente una mamma si dona al figlio se no non è un amore Dio ama su questo non c'è dubbio ma deve essere anche amato se no che amore è? L'amore è una roba da due io in te e tu in me ma se tu mi appari nella tua terribilità nella tua gloria infinita tant'è che tante volte mi domando ma come faremo in paradiso a starci? perché vedo la gloria infinita di Dio in paradiso saremo finalmente umili adesso Dio non appare nella sua gloria perché scapperemmo via tutti se Santa Gemma Galgani diceva Signore no appariva Santa Gemma che era un vero giglio Signore no non venire non avvicinarti sono un letamaio ma se era un letamaio Santa Gemma Galgani io cosa sono? ecco perché Signore non mi appare nella sua gloria perché non lo amerei è chiaro ma se mi appare come bambino specialmente a voi donne se adesso se adesso viene qua una mamma con una culla e la porta qui davanti sono convinto che tutte le donne qui presenti avrebbero come polo io sparisco dall'orizzonte come polo di attrazione questo bambino infatti quando entra un bambino nella culla tutte le mamme ci 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 io non capisco mai cosa vanno a farci ci 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 per un bambino cioè non avete mai visto un bambino c'è subito questa attrazione l'uomo un pochino meno a dire la verità questa attrazione è naturale allora se questo bambino è Dio guardate qui qui tocchiamo un vertice assolutamente strepitoso dice Don Dio Barsotti che la parola più grande che si possa dire a Dio è figlio mio e il fatto che Gesù sia Dio e appaia nel mondo come un bambino fa sì che il dialogo eterno del padre che dice al figlio figlio mio e del figlio Cristo che dice al padre padre mio venga trasportato sulla terra e venga detto tra Dio e una creatura cioè Maria e Gesù la Madonna dice a Dio figlio mio e lo dice con l'amore non lo dice così perché deve dirlo e la cosa più strepitosa ancora è che Dio deve dire a questa donna madre mia deve perché è la sua mamma in questo dialogo di amore uno vive nell'altro Dio vive nell'uomo e l'uomo vive in Dio noi potremmo contemplare il dialogo in eterno tra Gesù e Maria Santissima togliete la Madonna è anche l'amore di Dio non capisco più cosa sia infatti i protestanti arrancano arrancano perché tutto l'amore di questo rapporto viene esaurito tra la Madonna e suo figlio è tutto lì e allora io devo entrare in questa relazione in Maria Santissima madre mia fa che io possa dire anch'io con te figlio mio a Dio e la Madonna mi dice ma sì va là disgraziato ma vieni anche tu perché io sono della tua stessa pasta sì senza peccato originale è ovvio però creatura anche lei strepitoso sto fatto comunque io contemplo il fatto di quello che avviene dentro la Santissima Trinità quindi il padre attenzione non è colui che si dona ma il padre è atto di donarsi il padre non esiste fermo si dona continuamente nel figlio e il figlio nel padre quindi verrebbe da dire che ogni persona è pienamente se stessa solo in estasi solo quando non è in sé solo quando è impossibilitata a ripiegarsi su di sé e questa sarà la vita del paradiso ecco perché il paradiso noi non riusciamo a immaginarcelo l'inferno ce lo immaginiamo molto bene infatti diceva Dante sapete perché no diceva Schopenhauer un filosofo ateo diceva sapete perché a Dante l'inferno è venuto così bene e il paradiso così male cioè non così male così difficile in effetti se tu leggi il paradiso di Dante si capisce niente se tu leggi l'inferno è bello c'è come una giostra il diavolo è bello anche leggere l'inferno di Dante e Schopenhauer diceva perché per fare il paradiso non aveva modelli arrancava per fare l'inferno bastava che aprisse la finestra e guardasse fuori e descrivesse quello che vedeva in un certo senso ha ragione descrivere il paradiso è difficile perché ci sono tutte persone che non hanno più un grammo di ripiegamento su di sé persone umili che si realizzano come Dio in una totale relazione di amore col Cristo risorto e con tutti i salvati bene che Dio sia umile l'uomo non lo sapeva ce l'ha detto San Francesco d'Assisi dopo 1200 anni non c'è prima di Francesco non c'è uno che dice che Dio è umiltà non ce n'è uno forse non lo sappiamo neanche noi perché Sartre il buon Sartre il filosofo del secolo scorso diceva che la presenza di Dio minacciava la sua libertà dice se Dio è io non sono oppure Nietzsche diceva ma se Dio è perché io non sono Dio perché io non sono Dio perché lui è Dio e io no scusa tutto sommato non ha tutti i torti d'accordo? il problema è che noi facciamo fatica a conoscere Dio così perché non siamo umili allora questo è l'umiltà in Dio secondo punto come facciamo a diventare umili mettendoci alla presenza di Dio come diceva Elia viva Dio alla cui presenza io sto riconoscendo la sua esperienza la sua presenza che mi chiede di accoglierlo io divento umile e lo riconosco così com'è immensamente umile quando io sono amato da una persona umile mi sciolgo se sono amato da una persona potente no cosa intendo dire con questo che non posso amare Allah con tutta la buona pace dei musulmani non può amare Allah non è amabile non è amabile che non mi conosce non è in rapporto con me nella sua infinita terribilità non posso amarlo non c'è rapporto con lui lui stesso non mi conosce ma quando sono in Cristo quando sono vicino a Dio e lui mi chiede di amarlo vuole che io sia vuole che io emerga nella mia individualità vuole che io esista col mio io che lui ha creato ecco che allora l'amore per Dio e in Dio diventa reale e noi possiamo diventare veramente umili quindi vuol dire non riconoscendo più una mia posso dire superba presenza davanti a lui la vittoria ecco sua è che io mi riconosca uno sconfitto cosa vuol dire mi riconosca uno sconfitto che il mio io il mio essere dipende da lui dall'amore con cui egli mi ha creato mi ha voluto e mi ha fatto e mi relazioni con Dio cioè il superbo che cosa fa è uno ripiegato su di sé che cerca continuamente di emergere di fronte agli uomini e di fronte a Dio per imporre un suo io per imporre una sua presenza per imporre una sua volontà per imporre un suo essere anche nella via della santità infatti molti entrano e partono per i conventi per essere santi anch'io lo dico subito con un progetto forte sì santo l'ha detto il Signore poi gli anni passano non ci riesco allora mi deprimo alla fine ci rinuncio o poi non combino niente di buono e allora mi scoraggio mi scoraggio ma sapete cosa succede in tutti questi anni che io mi guardo continuamente allo specchio per vedere a che punto sono arrivato specchio specchio delle mie brame chi è il più santo del reame Serafino è ovvio io anche sia e io con questo specchio mi parlo continuamente poi scivolo su una buccia di banana dico una parolaccia a mio fratello adesso non la dico la penso la famosa implosione monastica perché il monaco non esplode mai fuori è perfetto una plomb inglese dentro c'è una rivoluzione russa un'implosione cioè quello che non dico a te lo dico dentro di me e scoppio allora dico ma io non sono il più bello del reame non sono capace neanche di e allora mi viene l'ascoraggiamento e dico ma dove sto andando ma perché vivo così male sapete qual è l'intervento di Dio finalmente arriva il Signore e cosa fa rompe lo specchio benedetto quel giorno in cui Dio mi rompe lo specchio perché sono sempre lì a guardarmi a che punto sono arrivato sullo specchio c'è la mia faccia quando Dio mi rompe lo specchio mi viene una grande angoscia come faccio adesso non riesco più a guardarmi come faccio a vedermi benedetto quel giorno sostituisco pian piano l'io ci metto una D davanti e diventa Dio allora l'umile non guarda più se stesso l'umile non si conosce più sia nel bene che nel male perché non sa più nulla di sé quando Gesù dice Pietro mi ami tu sì Signore io ti amo seconda domanda Pietro mi ami tu già un tono un pochino più ma sì ti amo terza domanda Pietro mi ami tu qui comincia a valbettare un po' di più sì Signore lo sai tu sai tutto tu sai che io ti amo Gesù mi chiede l'amore chiede di essere amato quando io dono ecco l'amore al Cristo divento umile perché sono amato da Lui il mio referente il mio punto ultimo è Lui non mi preoccupo più di me mi ha scelto si diceva ieri sono una spazzatura ma il fatto stesso di dirlo sono una spazzatura è sbagliato ma che me ne frega a me se sono una spazzatura o se sono chissà chi non mi interessa non ho più lo specchio signori io non ho più lo specchio in realtà tento sempre di ricostruirmelo con lo scotch questo specchio perché mi piace sapere a che punto sono e chiedo sempre l'intervento di Dio e che mi distrugga per sempre questo specchio perché in paradiso non c'è mica lo specchietto da guardarsi se in paradiso ho un ripiegamento su di me vado subito in purgatorio immediatamente d'accordo? allora vuol dire che noi saremo umili solo in paradiso ahimè oibò saremo umili veramente umili solo in paradiso qui in terra io non devo cercare l'umiltà devo cercare Dio vogliamo capirlo questo perché se cerco di essere umile non ci riesco è al di fuori della mia portata siamo nel peccato originale perché l'orgoglio si attacca anche agli atti buoni anche alla mia buona volontà di amare uno che non è amabile quando ci riesco mi guardo allo specchio e dico ce l'ho fatta sono bravo che ti venga un accidente allo specchio scusate se dico questo quindi se faccio l'atto cattivo mi conosco cattivo se faccio l'atto buono dico come sono bravo non esco non esco da questa situazione è l'orgoglio che mi attacca e quando dico come sono bravo poi dico a me stesso ma no non devo dire come sono bravo ma anche questo fatto mi dice ah ma allora sei abbastanza avanti perché stai combattendo la frase che devi dire non devo dire come sono bravo ma c'è da impazzire questa faccenda vedete allora io sono sempre riverso su di me signore sono venuto qui a Terlizzi mi vuoi fare un bel regalo un martello di quelli grossi una testa di come si può dire di quelli di ghisa pesantissimi visto che adesso vado a tagliare la legna posso rompere tutti gli specchi che sono qua dentro questa notte è un chiasso di tutti gli specchi delle vostre anime che si rompono magari succedesse questo voi domattina siete tutti perduti dove sono finito chi sono ma come chi sono sei amato da Dio ma tu non sei né utile né interessante una volta lo disse a una signora che farà sempre di sé ma signora sa che lei non è interessante ci rimase male e dirò di più non è neanche utile uila lei è amata d'accordo quindi quando voi parlate col vostro specchio io mi metto dietro lo specchio e dico tu non sei utile non sei interessante sei amato ti basta ti basta essere amato l'umile non si conosce più diceva Santa Teresa Davila vivo in un tale oblio di me stessa da non ricordarmi nemmeno di esistere questo lo dice anche fra Giuseppe la di Trapani vivo in un tale oblio di me stesso ti ricordi di esistere ma adesso forse Santa Teresa un po' esagerato come facciamo a non ricordarmi nemmeno di esistere io mi ricordo di esistere vedete il fatto di ricordarmi di esistere fa sì che Dio non viva ancora in me abbiamo paura di dargli questa ultima ancora ma andiamo avanti se no ho finito pezzo la sveglia qua dentro porto su la sveglia e la tengo in tasca non dico altro bene Gesù parla continuamente dell'umiltà chi si esalta sarà abbassato chi si abbassa sarà innalzato ma come vi dicevo l'uomo da solo non ce la fa ecco allora che Dio ci manda un aiuto sapete chi? il diavolo sì signori il diavolo ci manda un aiuto il diavolo sì signori dice Sant'Antonio l'eremita togli la tentazione e nessuno sarà salvato cioè io devo provare e sentire che da solo non ce la faccio d'accordo Gesù nel Gezema gli ha detto lo spirito pronto è pronto ma la carne è debole devo sentire l'assoluta necessità di aver bisogno di Dio devo sentire l'assoluta incombenza della nostra debolezza quando il re Davide aveva tutto Israele pensava di essere chissà chi cosa fa scivola su una buccia di banana ma di quelle forti con Bezzabea tant'è che mi sono chiesto ma come ha fatto a cadere in un peccato simile la debolezza della carne c'è intendiamoci ma dopo ho fatto il peccato con Bezzabea poteva dire torna a casa tua mi confesso allora non c'era la confessione ma andare a ammazzare Uria oltretutto è crollato miseramente dal vertice a terra perché si potesse rimanere umile la grandezza di Davide è il peccatore pentito e Davide adesso in paradiso il santo re Davide mentre invece gli apostoli prima della Pentecoste hanno un ardore orgoglioso San Pietro apostolo quando dice questo non ti accadrà mai signore il figlio dell'uomo andrà e sarà crocifisso non ti accadrà mai ma perché ma perché ci sono io c'è Pietro c'è il tuo Pietro cos'è paura andiamo là e spezzo le corna a tutti quanti Pietro dice così non dire sti discorsi vedete l'orgoglio l'orgoglio che poi Pietro mantiene fino alla fine d'accordo e Gesù li porta piano piano fino alla convinzione tu sei un nulla per me la frase più grossa nel Vangelo Giovanni 15 5 senza di me non potete far nulla io sono nato il 15 maggio 15 5 sono andato a vedere nei Vangeli cos'è 15 5 e nei 4 Vangeli arrivo a San Giovanni appunto il Vangelo di Giovanni senza di me non potete far nulla e ho detto ma signore non è vero che non posso far nulla posso mangiare posso dire una parola a quella persona senza di me non potete far nulla e San Paolo nella lettera ai Corinzi che cosa mai possiedi tu che non abbia ricevuto tutto abbiamo ricevuto e se l'hai ricevuto perché te ne vanti come se non l'avesse ricevuto io sono un nulla ricordatevi non esistevo qualche anno fa adesso esisto sono un nulla ma se mi vanto sono un nulla superbo d'accordo? quindi io quando entro in me stesso trovo questo nulla creaturale ma deve essere un nulla vuoto perché se è un nulla che si vanta si vanta di cose che ha ricevuto scoprire questa verità è una grande grazia sentite cosa scrive la beata Angela da Foligno che è una francescana pure lei l'anima non può aver miglior fine in questo mondo che la contemplazione del proprio nulla e non è finita sì questo è ridere e abitare in esso come nella cella di un carcere avete il presente un carcere? bene lì dentro la beata Angela da Foligno dice contemplare il tuo nulla e andare a vivere in esso perché stare in questa cella è una quiete e in questa cella io considero gli altri superiori a me stesso Filippesi 2 e 3 quindi non è un chiudersi in sé ma è un aprirsi agli altri in questa cella il diavolo non entra perché non può sopportare l'umiltà in questa cella si viene visitati solo da Dio e non è una cella buia avete capito allora? il mio nulla ce l'ho ci vado ad abitare dice solo Dio e considero gli altri superiori a me stesso tutti è il segreto dell'umiltà da quel momento si rovescia tutto Dio viene a vivere in me e Dio agisce con potenza ma io continuo a considerare gli altri superiori a me stesso guardate io ho fatto questa esperienza una volta in cui concelebravo la Santa Messa figurati nella Messa facevo il celebrante principale avevo un celebrante vicino a me che quando diceva il canone la regola sarebbe che il celebrante principale dice il canone e gli altri gli vanno un po' dietro questo invece la diceva una voce il doppio della mia più alta e correva come un treno io non è che voglio andare piano apposta però cerco di insomma di dirle con un certo raccoglimento sì che io anziché pensare questo il mio corpo questo il mio sangue pensavo guarda sto cretino qui che mi vicino a me che potrebbe andare più piano poi dico ma signore ma che lo sto dicendo se è qui davanti a me non mi deve interessare questo qui questo come niente fosse andava per gli affari suoi non potevo interrompere la Messa nel momento clou in quel momento mi veniva dei pensieri negativi nei suoi confronti mi è venuto sto flash Filippesi in due e tre considera gli altri superiori a te questo qua ti è superiore mentre io cercavo di abbassarlo a miei occhi questo qua ti è superiore l'incanto è cambiato tutto mi son detto ma Dio ama questo pensa che riflessioni che faccio durante la Santa Messa Dio ama questo sacerdote e lo ama perché ha delle virtù ha delle doti molto superiori alle tue al che io ho detto sì signore scusi come Don Camillo scusi mi abbasso e accetto questa situazione ma non me la son dimenticata quella Messa trasformata da un giudizio negativo a un giudizio positivo allora se io rimango in questa cella e considero tutti ciascuno di voi superiori a me stesso divento umile e allora per diventare umili abbiamo bisogno degli altri beati voi che siete in fraternità perché da solo non ce la faccio se io mi autoaccuso non succede niente ma se mi accusa un altro è ben diverso o no quello che dice io sono un grande peccatore e gli altri dicono sì sì è vero è un grande peccatore ma chi ve l'ha detto oh non posso dirlo io che sono un peccatore ma se un altro me lo dice subito frigo cosa vuol dire che non ci credo che non ci credo l'orgoglio è un virus che sopravvive a tutti i climi salta addosso a tutti come faccio a toglierlo da me ho bisogno di un altro che mi umili perché le umiliazioni sono la via regale per diventare umile e nella vita religiosa questo cammino è agevolato la vita comunitaria ma che grande grazie anche perché non ci scegliamo a volte appunto nella nostra vita comunitaria più o meno gli amici ce li scegliamo quando uno entra nella vita religiosa arriva il prossimo chi viene alto magro grande basso io sono lì diciamo un po' che non siamo in sette per esempio c'è uno nella mia nella mia fraternità che mangia ad una lentezza impressionante quando io lo vedo mangiare dentro di me dico ma come fai a essere così lento non succede niente nessuno se ne accorge magari lui dentro di sé sta pensando guarda questo come mangia velocemente come un razzo io dicevo ma signore ma perché non hai mandato uno che mangia con una certa rapidità così ci muoviamo facciamo tutte le no io sono costretto ad aspettare questo che non finisce mai e quindi quando sono lì che mangio mi devo adattare ma pensa a te che dinamiche che ci sono nella vita religiosa bene poi arriva un altro che è completamente diverso da me superiore a me stesso fantastico non me lo scelgo io me lo manda il signore e allora io mi faccio piccolo ecco l'insistenza che faccio di questi giorni ritenendo l'altro superiore a me stesso attraverso le umiliazioni e il primo che si è umiliato è nostro signore Gesù Cristo sia l'odio a lui in eterno che era nel seno del padre la seconda persona della Santissima Trinità si è fatto carne si è fatto carne questa è la prima umiliazione e la seconda è morto in croce questa è una grande umiliazione quindi Gesù ci invita a fare il suo percorso d'accordo? quindi noi dobbiamo fare cose grandi ma a vantaggio degli altri cioè il nostro essere è riconosciuto da Dio un essere reale Dio ci ama ma non ci ha messi al mondo per riconoscere questo amore ci ha messi al mondo perché il nostro amore diventi fecondo verso i nostri fratelli quindi per essere umili bisogna essere sempre in due come minimo se siamo in uno quanti siete voi qua? 80 io non so come fate quanti siete? 70 80 ma come fate? ma come fate? dovete riconoscere tutti gli altri superiori a voi stessi e su voi siete uno 79 che vi non dico vi danno delle umiliazioni apposta no non fate questo apposta ma con loro essere diverso e ve le danno ci sta e quindi quando uno vi umilia dovete subito dire grazie signore c'è questo mio io che cercava di emergere adesso torno in cella torno subito in cella nella cella profonda del mio vuoto questo fratello mi ci ha riportato la vita comune diceva San Giovanni Bergmans vita comune massima penitenzia ma per me no vita comune massima grazia massima grazia perché continuamente io tendo a venire fuori dal mio io subito il signore mi riporta mi ricordo una volta con Don Divo Barsotti in persona io suono l'organello abbiamo anche noi una tastiera così una volta avevo trovato un salmo una melodia che mi piaceva allora l'avevo insegnato a tutti gli altri non so voi le vostre melodie ma i salmi non ho visto che non li suonate comunque una melodia ad un salmo mi piaceva l'ho insegnata a tutti una sera dico stasera facciamo questo il secondo salmo partiamo io suonavo e vedo Don Divo Barsotti che era seduto qui che già dalle prime battute l'ho visto che si agitava un pochettino ho l'impressione che non gli piaccia tanto questa melodia qui a metà salmo vedo che comincia ad andare in febbrillazione dico Dio spero di arrivare alla fine salmo a tre quarti del salmo si alza si volta verso di noi e dice questa non è Sanremo fermato subito ho tolto le mani dall'organo il primo pensiero sapete qual è stato il primo pensiero ma benedetto uomo ma perché non me lo dice dopo in sacristia primo pensiero si va bene non ti piace va bene non lo facciamo non è nessun obbligo ma farmi fare una figuraccia così davanti a tutti quanti anche perché lui non sapeva che io l'avevo insegnato con grande entusiasmo insegno una melodia meravigliosa si che tutti fermi primo pensiero secondo pensiero no seratino approfittane è una grande grazia quella che Dio ti dà in questo momento approfittane immediatamente dai l'odio a Dio dai grazie a Lui perché in quel momento io ero un io superbo che si faceva il galletto dovevo tornare giù nella cella accettalo immediatamente come voce di Dio e ho detto di sì una delle rare volte in cui sono obbediente immediatamente nostro Signore ho detto di sì sapete che mi è piombato addosso un mantello di pace come se avessi una pace del cuore profondo nessuno mi toglieva niente tornavo nella mia cella alla fine dei Vespri sono andati in sacristia a ringraziare il padre perché aveva detto tant'è che quando lui mi ha visto avanzare così con le mani gioiosamente protese per abbracciarlo ha fatto un passo indietro dice questo qua questo appunto dopo i Vespri piomba in sacristia come un folle e dice non ho padre buono buono non ci sono usanze simili inter nos volevo solo dirle grazie ma credo che questa sia stata una grazia di Dio allora vi come dire ve la dico perché ne approfittiate ma non che il superiore debba ah visto che è così allora ne approfitto no quelle volte che ricevete una frase con simile sappiate che Dio vi vuol bene è un giorno di festa questo perché vuol distruggere il vostro orgoglio e altri difetti già siete in buon punto l'orgoglio invece siete ancora lì allora cosa è costretto a fare a usare i fratelli mi spiace finisco la mia meditazione con alcune espressioni di Don Divo Bersotti l'anima deve realizzare qua giù fin da ora l'umiltà attraverso l'esercizio della divina presenza un processo di spogliamento interiore continuo in modo che l'anima faccia posto a Dio ed essa sparisca e Dio solo rimanga questo è il cammino dell'umiltà Dio solo rimanga in noi la santità altro non è che la presenza di Dio nel cuore dell'uomo non sono le virtù non sforciatevi troppo sulle virtù non ci riuscite se fate spazio a Dio come diceva Teresina di Gesù bambino tu sei la mia virtù non io tu sei la mia virtù ma bisogna che tu viva in me San Nicolao della Flue qui ci sono della gente che vive in Svizzera andate a trovare Nicolao della Flue a San Gallo c'è la sua casa dove ha vissuto Eremita ebbene c'è una preghiera sua meravigliosa togli me stesso a me togli me stesso a me io sono l'ostacolo a me stesso di fronte alla santità infinita di Dio ci sono dei passi nei diari giovanili di Divo Barsotti in cui dici signore spezzami distruggimi massacrami ma questo è folle questo qui è uno che bisogna andare dallo psicologo ma no perché lui capiva benissimo che era lui l'ostacolo a se stesso per cui diceva signore tu distruggimi io non ci riesco spezzami tu crucifiggimi allora l'uomo diviene pura condizione alla presenza di Dio l'umile diviene Dio eh sì signori diviene Dio in quanto comunicato non diviene Dio in quanto sostanza diviene Dio comunicato la Madonna è la numero uno la number one sparisce davanti a sé ha guardato la nullità della sua serva allora Dio vive in noi una per divenire umili un'ottima pratica è l'adorazione l'adorazione in silenzio cosa fa sì che Dio noi riconosciamo la presenza di Dio nell'eucharistia ma riconosciamo anche la nostra sussistenza io sto qui davanti a te io esisto davanti a te l'adorazione è straordinaria per diventare umili perché riconosco Dio come vi ho detto per essere umili bisogna essere in due nel cristianesimo mi scopro amato scrive Barsotti l'unico ostacolo alla divina presenza siamo noi stessi perché pensare sempre a te stesso se tutto è presente nell'attimo in cui accogli il Signore quindi Dio viene a te non per arricchirti per spogliarti state lì non dite no ma io non voglio essere spogliato voglio essere arricchito no signori devi essere spogliato poi lui vive in te ma io non me ne accorgo il santo fa miracoli ma non se ne accorge Serafino di Sargo faceva un sacco di miracoli mi diceva mica li faccio io io prego il miracolo viene sì grazie grazie perché tu sei santo ma la gente dice no non sono santo prego ho fede Dio viva in me perché non possiamo farli noi questi miracoli avete avuto mai la tentazione di fare un miracolo io sì me ne racconto una volta ho avuto una tentazione c'era uno in coma all'ospedale un amico della nostra comunità io stavo studiando ero uno studentello in coma anzi era andato poco tempo di vita ho sentito un'ispirazione alzati vai all'ospedale vai di fronte al letto di quell'uomo e digli in nome di Gesù alzati e cammina e cosa ho fatto mi sono alzato ho preso il cappotto avevamo un motorino sono andato all'ospedale con il motorino parcheggio lì davanti all'ospedale e dico ma cosa sto facendo adesso io vado su sto qui in coma già non so neanche se mi fanno entrare magari c'è la moglie lì arriva sto folle il motorino in nome di Gesù alzati e cammina e quello non si alza cosa faccio oh non sono salito sono tornato ho fatto il retrofront sono tornato a casa sono passati tanti anni e sono ancora più che mi chiedo se l'avessi fatto perché non ho avuto la fede di portare se era un'ispirazione giusta vedete sono sempre io che ragiono su di me ma io che figura ci faccio se vado là e non succede niente il santo non si fa questi problemi nel santo l'io non esiste più d'accordo? allora Dio viene a noi per spogliarci perché lui è la ricchezza e infatti San Francesco dice tu sei ricchezza Francesco Barsotti diceva ma che povero è povero mi fanno ridere quelli che dicono il poverello di Assisi il ricco di Assisi ma chi più ricco di lui era Dio spogliato di tutto era ricco di Dio è chiaro lui gli dava noia l'espressione il poverello di Assisi come se la povertà fosse un bene la povertà è un male o meglio l'indigenza noi siamo fatti per essere re del creato ma la povertà di Francesco è funzionale alla ricchezza perché Dio non si compone con le cose quando ho Dio ho tutto siete d'accordo o no su questo fatto quindi la povertà serve per avere Dio in sé ed è per questo il motivo per cui l'umile è sempre gioioso perché l'umile rivela Dio così com'è l'umile non testimonia Dio attraverso le azioni attraverso testimonia Dio attraverso se stesso la gente guardava San Francesco e impazziva e diceva voglio essere come te tant'è che fu costretto appoggi i bonsi a inventare il terzo ordine perché gli uomini sposati andavano dietro lui diceva ma no non potete venire dovete stare con le vostre mogli le vostre famiglie cosa aveva di così bello Francesco aveva Dio non è che vedessero un semplice uomo aveva Dio in sé vedete l'umile l'umile attira terribilmente perché ha Dio in sé infatti San Francesco contempla Dio nella sua umiltà nel presepio del Natale e nell'incarnazione e quando diventa ostia sull'altare proprio San Francesco medita sull'umiltà di Dio in questi grandi in questi grandi misteri e vuole che il frate sia povero ma soprattutto vuole che sia umile un frate superbo è un un assurdo d'accordo? meditate gente meditate soprattutto i francescani è la ricchezza di Francesco questa un'umiltà senza fondo che rivela Dio così quasi mi faccio francescano concludendo l'umiltà si può acquisire in tre in tre momenti primo nell'intelligenza nell'intelligenza riconoscendo il nostro nulla d'accordo? nell'intelligenza cioè l'abisso di Dio e l'abisso dell'uomo semplicemente riconoscendolo è così il secondo movimento nella volontà accettare di essere nulla e goderne ritenendo gli altri superiori a noi stessi come atto di volontà non come atto di devozione o di intelligenza voglio che sia così è così il terzo movimento e questo è per i professionisti volere le umiliazioni per vivere la gioia perché dico per professionisti perché volere le umiliazioni è un po' forte ma l'umiliazione è quella che crea in Francesco la perfetta Letizia vi ricordate il passo in cui arriva nel convento lo buttano fuori e lui corre via e dice frate Leone questa è perfetta Letizia se avessimo predicato se avessimo fatto se avessimo concluso tante cose non sarebbe Letizia siamo andati là siamo stati bastonati siamo stati cacciati siamo stati non riconosciuti e adesso qui noi siamo con Dio questa scrivi è la perfetta Letizia citazione finale di Divo Barsotti chiedi a Dio che ti faccia trovare la gioia solo nelle umiliazioni un po' tosto questo che Dio sia Dio e io non sia più devo trovare la mia gioia proprio in questo morire a me stesso perché non viva che Lui questo è il cammino dell'umiltà è il cammino